Due morti e tre feriti e questo il bilancio dell'incidente avvenuto domenica pomeriggio alle ore 16.30 sulla Monte Labattese all'altezza di Villa Ceccolini, a pochi metri dall'intersezione con via Lago di Trasimeno. A perdere la vita sono stati Martina Mazza, 32enne di Vallefoglia e Sultan Ramadani, macedone 27enne di Sant'Angelo in Vado. Secondo le prime ricostruzioni la BMW Serie 3 su cui viaggiava Ramadani era in fuga dei carabinieri, li aveva seminati ma continuava a premere sull'acceleratore. A velocità elevatissima e in fase di sorpasso l'uomo macedone ha perso il controllo dell'auto andando così a scontrarsi frontalmente contro una Fiat 500 L. L'auto, a seguito del violento impatto, è finita nel fossato che costeggia la strada rovesciata e in fumo. Martina era una giovane madre separata, viveva col suo bambino di 5 anni a Montecchio e aveva un'attività improprio. Ramadani, senza patente di guida, era nell'auto con un altro ragazzo e entrambi, di recente, avevano avuto guai con la giustizia. Nell'incidente sono rimaste gravemente ferite altre tre persone. Il secondo passeggero dell'auto in fuga, albanese, coetaneo e complice del macedone alla guida, la sorella di Martina Mazza e un loro amico di 27 anni. Uno dei feriti è stato trasportato da Ancona in gli ambulanza, gli altri due a bordo dei mezzi del 118. Sono tutti gravissimi e in prognosi riservata. Le auto distrutte sono state sequestrate, la procura ha aperto un fascicolo e farà chiarezza sull'accaduto.